22 milioni e mezzo di euro sono i fondi stanziati affinché il comprensorio di Passo Lanciano possa diventare una meta di destinazione turistica. Secondo il giudizio dell'On. Luciano D'Alfonso, la Regione Abruzzo sta temporeggiando sulla destinazione di somme già stanziate che aspettano solo di essere messe a progetto per l'avvio dei lavori. A 200 giorni dalla fine della legislatura regionale, il deputato Dem chiede quindi quanto sia ancora necessario aspettare per dare inizio al cantiere del comprensorio di Passo Lanciano, un giacimento turistico appartenente all'intera Regione. Noi abbiamo consegnato alla Regione che è arrivata dopo di me, quella che è nata 1500 giorni fa, qualcosa come 20,2 milioni di euro per Passo Lanciano, 2 milioni di euro per la viabilità tra Caramanico e Passo Lanciano e 9 milioni di euro per la viabilità tra Scafa e Monopello Passo Lanciano. Per quanto riguarda la viabilità, la provincia di Passo Lanciano si è mossa, si sta muovendo e va riconosciuto merito all'ingegnere capo della provincia di Passo Lanciano, l'ingegnere Scorrano. Per quanto riguarda i 20,2 milioni di euro per il giacimento turistico di economia bianca della Maiella, denominata Passo Lanciano, non è accaduto nulla nonostante i 1500 giorni. Che cos'è che blocca la Regione per fare in modo che queste risorse diventino procedura, contratti, cantieri? Che cos'è che blocca l'Arap che ha l'incarico di procedere? Dovesse fare che girovaga troppo l'Arap, i vertici dell'Arap, si stessero un po' di più a Cepagatti a fare il proprio lavoro, in maniera tale da poter rendicontare quello che stanno facendo per Passo Lanciano. Hanno avuto le risorse, perdere tempo non significa nulla, non vale nulla, sono 1500 giorni di tempo perso. E quando si perde un anno per una dotazione finanziaria, poi si perde anche capacità realizzativa, perché aumentano i prezzi dei materiali. E un milione, che prima si faceva con un milione, un milione di prodotti di cantiere, adesso con un milione, con un anno che passa, un anno e mezzo che passa, si perde il 20-25% di capacità realizzativa. Allora vogliamo svegliare la sonnolenza della regione, che fa dichiarazioni, conclama ad agosto dell'anno passato, non so che doveva succedere, ha dichiarato il pure educato Daniele Damario, forse troppo spintonato dal consigliere Febbro su questo, invece noi vorremmo che Arap si senta capace, libera di fare il suo dovere.